Benvenuti a un viaggio verso l'espansione della tua saggezza interiore. In questo affascinante viaggio attraverso la scienza dell'intuizione scopriremo come unire l'olismo e la spiritualità per sviluppare una connessione più profonda con te stesso e prendere decisioni che risuonano con la tua vera essenza. Preparati a scoprire i segreti nascosti dietro la porta dell'intuizione. L'intuizione è molto più di un istinto casuale. È il risultato delle connessioni profonde nel cervello che uniscono esperienze passate, conoscenze acquisite e percezioni sensoriali. Ogni volta che ci troviamo di fronte a nuove situazioni, il nostro cervello attinge a una vasta banca dati di esperienze e modelli. Questo processo avviene in modo automatico e in gran parte al di fuori del nostro controllo conscio. Questa rete intricata di connessioni neurali è il risultato di una vita di apprendimento e percezioni. Ogni singola esperienza, da quelle significative a quelle apparentemente trascurabili, contribuisce alla formazione di un quadro che il cervello consulta quando ci troviamo di fronte a una decisione. L'intuizione è come una guida segreta che fonde la nostra storia personale con l'attuale situazione. Quando sentiamo quell'impulso intuitivo, stiamo percependo il risultato di questa complessa rete di connessioni neurali che lavora silenziosamente dietro le quinte per offrirci una prospettiva istantanea. La prossima volta che seguiamo un'idea intuitiva, ricordiamoci che stiamo sfruttando la scienza nascosta delle connessioni neurali, una sintesi di esperienze passate e intuizioni istantanee. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio nella scienza dell'intuizione. L'olismo ci insegna che ogni aspetto della nostra vita è collegato in una trama intricata. È come se fossimo dei puzzle umani, composti da innumerevoli pezzi che interagiscono tra loro per creare l'immagine completa. Quando si tratta di intuizione, l'approccio olistico ci invita a considerare l'intera gamma di elementi che contribuiscono al nostro modo di percepire il mondo. Ogni esperienza, ogni emozione e ogni pensiero sono tessere fondamentali in questo puzzle. Ogni pezzo interagisce con gli altri, plasmando la nostra percezione e la nostra comprensione. Quando affrontiamo una decisione importante, l'approccio olistico ci incoraggia a considerare come ciascun pezzo influenzerà il quadro generale. Pensa a te stesso come a un ricco mosaico di sensazioni, pensieri e conoscenze. Questo mosaico è unico e solo quando tutti i pezzi sono messi insieme possiamo vedere l'immagine completa. L'intuizione in questo contesto non è una singola intuizione isolata, ma è il risultato della collaborazione armonica di tutti gli elementi che costituiscono la tua esperienza. L'approccio olistico all'intuizione ci sfida a guardare oltre il superficiale e ad abbracciare l'interconnessione tra le diverse parti del nostro essere. Quando riusciamo a unire queste parti in modo coeso, otteniamo una comprensione più profonda e completa delle situazioni che affrontiamo. Quindi la prossima volta che ascolti la tua intuizione, ricorda che stai ascoltando un coro di voci interiori che lavorano insieme. Stai percependo non solo il momento presente, ma un accumulo di esperienze e influenze che si fondono per guidarti lungo il cammino. La dimensione spirituale ci offre una finestra in un mondo di profonda connessione e significato. È qui che troviamo la forza che collega il nostro sé interiore con l'universo stesso. Quando esploriamo questa dimensione, apriamo le porte alla profonda saggezza interiore e all'intuizione. La pratica della meditazione e della connessione spirituale ci offre un modo per allontanarci dal rumore esterno e ascoltare la voce interiore. In un mondo dominato dalla frenesia, prendersi il tempo per meditare è come spalancare una finestra per permettere all'intuizione di fluire liberamente. Nel silenzio della meditazione possiamo sentire chiaramente i sussurri del nostro intuito. È qui che le risposte alle nostre domande più profonde si rivelano, poiché ci allontaniamo dalle distrazioni quotidiane e ci immergiamo nella nostra essenza più profonda. La connessione spirituale ci insegna che siamo parte di un universo vasto e interconnesso. Quando percepiamo questa connessione, iniziamo a vedere le sfumature sottili delle situazioni che affrontiamo. La nostra intuizione si amplifica, diventando una guida affidata nella navigazione delle acque incerte della vita. Quando siamo in sintonia con la dimensione spirituale, diventiamo come antenne che captano le vibrazioni dell'universo. Queste vibrazioni si fondono con il nostro intuito, guidandoci verso decisioni che risuonano con la nostra essenza più autentica. Percorrere questa dimensione spirituale ci porta a un livello di consapevolezza più profondo, consentendoci di guardare oltre l'apparenza e di abbracciare la verità interiore. È come se ci stessimo immergendo in un fiume di conoscenza che scorre attraverso di noi, arricchendo la nostra intuizione e illuminando il nostro cammino. L'intuizione non è solo una teoria astratta, ma una guida pratica che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Ogni giorno siamo chiamati a prendere decisioni che plasmano il nostro percorso. Ecco dove entra in gioco la scienza dell'intuizione. Immagina di dover prendere una decisione lavorativa. Invece di affidarti solo a dati e ragionamenti logici, puoi ascoltare il tuo intuito. Le sensazioni interiori che provi quando rifletti su diverse opzioni possono rivelarti molto più di quanto pensi. L'intuizione è come un faro che illumina il sentiero giusto da seguire, indicandoti la strada che risuona con il tuo scopo e la tua passione. Nelle relazioni personali, l'intuizione può essere un prezioso strumento per valutare la genuinità e la compatibilità. Quando incontri nuove persone o prendi decisioni riguardanti le tue relazioni esistenti, cerca quei segnali intuitivi che possono darti un'idea più profonda delle dinamiche interne. Persino nelle scelte quotidiane, come decidere cosa cucinare per cena o quale percorso prendere per il lavoro, puoi consultare l'intuizione. Scegliere in base a ciò che risuona con te, piuttosto che seguendo ciecamente la routine, può portarti a esperienze più significative e soddisfacenti. L'applicazione della scienza dell'intuizione richiede pratica e fiducia in te stesso. Può sembrare controintuitivo all'inizio, specialmente in una società in cui si enfatizza spesso l'analisi razionale. Tuttavia, mano a mano che sviluppi la tua intuizione e inizi a vedere i risultati positivi delle tue decisioni guidate dall'intuizione, la tua fiducia crescerà. La scienza dell'intuizione è un'arte da coltivare nel corso del tempo. Con pazienza, sarai in grado di discernere tra le voci interne, distinguendo l'intuizione dalle paure o dalle influenze esterne. Ricorda, sei in grado di creare la tua guida interiore, un faro luminoso che ti guiderà verso scelte più saggi e appaganti. Le decisioni intuitive hanno un potere profondo e trasformativo che va oltre la superficie. Quando impariamo ad ascoltare e affidarci del nostro intuito, apriamo la porta a una nuova dimensione di saggezza e autenticità. Immagina di aver preso una decisione importante basata sull'intuizione. Ogni volta che guardi indietro a quella scelta, senti un senso di conferma interiore, un riconoscimento che hai fatto la cosa giusta. Questo è il potere dell'intuizione in azione. Ci guida verso scelte che si allineano con il nostro scopo più elevato. L'intuizione ci collega a una verità più profonda che risiede in noi. È come se stessimo attingendo alla nostra saggezza intrinseca, a una conoscenza che va oltre ciò che possiamo spiegare razionalmente. Questo potente strumento interiore ci consente di discernere tra le molte possibilità che si presentano nella nostra vita. Quando prendiamo decisioni intuitive stiamo ascoltando il nostro cuore e la nostra mente in modo armonico. Questa integrazione ci porta a scelte più complete e ben bilanciate. Ci permette di allineare ciò che sappiamo razionalmente con ciò che sentiamo profondamente, creando una pienezza di visione che va oltre il semplice calcolo. Inoltre, le decisioni intuitive possono portare a un senso di pace e fiducia in sé. Quando ci affidiamo al nostro intuito, riconosciamo la nostra capacità di connetterci con la verità e di guidare la nostra vita in modo autentico. Questo rafforza la nostra fiducia interiore e ci dà la forza di affrontare sfide e opportunità con risolutezza. Inizia il tuo viaggio verso la scoperta interiore oggi stesso. Abbraccia la scienza dell'intuizione, unendo olismo e spiritualità per creare una connessione profonda con te stesso e con il mondo che ti circonda. Ricorda che sei molto più di ciò che vedi. Sei un'energia vibrante in sintonia con il flusso dell'universo. Grazie per aver condiviso questo viaggio alla ricerca della scienza dell'intuizione. Ricorda sempre di ascoltare la voce del tuo cuore, poiché è il tuo compagno più fidato lungo il percorso della vita. Sei pronto ad abbracciare il potere delle tue decisioni intuitive? Lasciaci un commento qui sotto e iscriviti al canale per essere aggiornato sui prossimi contenuti. Alla prossima!